13 dicembre è iniziata a nevicare alle 4.10, sono le 8.00. Tira un'aria che fa un freddo. Tira un'aria che fa un freddo. Fuori in questo momento ci sono meno tre gradi. La mattina del 14, come vedete tira ancora un discreto vento. La mattina del 14, come vedete tira ancora un discreto. La mattina del 14, come vedete tira ancora un discreto. La mattina del 14, come vedete tira ancora un discreto. La mattina del 14, come vedete tira ancora un discreto. La mattina del 14, come vedete tira ancora un discreto. Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può camminare più. Vedi tira ancora un discreto. Vedi tira ancora un discreto. La mattina del 14, come vedete tira ancora un discreto. La mattina del 14, come vedete tira ancora un discreto. La mattina del 14, come vedete tira ancora un discreto. La mattina del 14, come vedete.